In piazza Vittorio Emanuele a Campopasso la Befana fra i bambini, una Befana che si cala da una finestra del secondo piano del palazzo di città grazie all'apporto dei vigili del fuoco. Tutto va preparato nei singoli dettagli, grossa attenzione alla sicurezza. Per noi è un appuntamento che in realtà diciamo ci lega ai bambini come anche in altre occasioni di visita nei nostri ambienti. Qui è l'occasione nella quale noi mettiamo in campo quelle che sono le tecniche spero-alpino-fluviali con le quali operiamo negli ambienti impervi o anche in ambienti industrializzati utilizzando tutto quello che è il mondo delle corde con delle procedure affinate nel tempo. I vigili del fuoco sempre legati alla popolazione, pronti ad intervenire in ogni momento? Sì, cerchiamo di essere sempre a fianco al cittadino e ripeto poi quando ci sono i bambini abbiamo una motivazione in più. E' appena terminata l'investizione della Befana dietro questa maschera c'è un glorioso vigile. Glorioso è un nome troppo... ci divertiamo soprattutto noi per divertire i bambini. Comunque come dicevo anche prima è un'esercitazione per noi, è un'esercitazione per loro, è un divertimento. Immagina tra pochi secondi gli occhi di centinaia di bambini e di genitori saranno non solo per te. Speriamo che si divertano, mi hanno riempito di caramelle e così li posso riempire di caramelle. E poi è la festa dei sorrisi per questo evento che sancisce la chiusura delle vacanze di Natale.